Si intitola A caccia di Inbook, il laboratorio di lettura rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia della Direzione Didattica Sant'Agostino, avviato presso la Biblioteca Comunale Aurelio Cassar di Palazzo Lazzarini, dove sabato scorso è stato inaugurato un apposito scaffale dedicato agli Inbook, i libri in simboli di facile comprensione per tutti. Gli Inbook utilizzano infatti linguaggi aumentativi e alternativi rispetto al linguaggio scritto convenzionale, ovvero la grafica attraverso dei particolari simboli, la gestualità, la vocalizzazione. Un metodo quindi diverso rispetto al tradizionale, dedicato non solo ai bambini con bisogni comunicativi speciali, ma anche a tutti i bambini che si approcciano alla lettura, già a partire dall'età di 5 anni. Ed è proprio ai bambini di questa fascia d'età della Scuola dell'Infanzia Sant'Agostino che è stato rivolto il laboratorio, condotto dalle insegnanti Giuseppina Gerardi e Valentina Vitale, alla presenza del dirigente scolastico Maria Paola Raia e della dottoressa Silvia D'Ambrosio, referente della Rete Nazionale delle Biblioteche Inbook. Già l'anno scorso la scuola aveva preso parte alla formazione dei docenti del progetto comunale Scaffale Inbook, coordinato dall'assessore alla cultura Gisella Mondino. Il laboratorio rivolto ai piccoli alunni è uno dei sette progetti extracurriculari che la scuola ha promosso nell'ambito del piano scuola estate e che sta coinvolgendo oltre 150 bambini in attività laboratoriali pomeridiane di inglese, mini basket, lettura e scienze.